Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Si faccia di me secondo la Tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e vengi ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti i degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi noi, o Signore, la Tua grazia. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo a Tuo Figlio, concedi per la Sua passione e la Sua croce di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Supplica alla Madonna di Siponto nel tempo della prova. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a Te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda, noi, Tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza, per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni e impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla Tua casa per essere vicina all'Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal Figlio tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul Tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dai Suoi ministri, rendi l'assegno e strumento della Tua luce e della Tua bontà. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede. Accompagna le famiglie. Rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli. Preserva gli anziani dalla solitudine. Fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scolaggiamento. intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi essuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ed ora accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.